buonasera a tutti così mi è venuto un po così effetto delle letture dei pensieri di questi periodi però essendo non particolarmente preparata dovrete aspettare ma infatti vediamo siamo in cinque aspettiamo un attimo sono qui che cerco su vecchie letture di in questo caso di kulakovsky non so se conoscete kulakovsky un filosofo polacco molto religioso molto religioso diciamo che ha riflettuto che ha cercato di mettere assieme il pensare con l'essere religioso sto cercando un a pezzo che non trovo volete su un altro libro mi sono portato in ufficio questo convento di forse questo è invece è invece probabilmente sei polacco ma non lo conosce si è piuttosto tormentato nel vostro paese ai tempi adesso condividi con lui lo ski finale è quello non è particolarmente originale no omelia del venerdì santo ma ciao paolo che omelia no sul tema del dio che muore ho detto già tutto tutti quindi non ho ben capito non ho ben capito perché mi sono inventato di di mettermi a parlare così su questo perché perché evidentemente se non ho già detto tutto io non potrò che ripetere o dire banalità però diciamo che mi è venuto ogni tanto mi viene come quando si viene da leggere il poesio sì in realtà mi chiedo se molti mamma mia 114 a mezzanotte passa va bene mi chiedo se infatti questa ritualità che ho stabilito da da me stesso nel natale scorso e adesso la sera venerdì santo santo appunto per i cristiani del venerdì di pasqua non faccio suggerire a molti faccio pensare a molti ma boldrin fa tanto l'ateo però in realtà è religioso ma ovviamente boldrin non è per niente religioso ed è profondamente ateo e nel suo essere profondamente ateo si confronta da sempre con i temi a cui la religione pretende di dare risposte le risposte facili ed essendo diventato ateo dopo essere stato educato ai riti alla cultura ai valori alle maniere di interpretare alle mani di interpretare la vita e il mondo proprio della religione cristiana e specificamente cattolica italiana del secolo scorso è anche ovvio che certi temi certe riflessioni vengono alla mente più frequentemente o più facilmente in relazione a quelle feste comandate perché perché per 18 anni è fatto così e anche dopo che hai smesso di frequentare la chiesa di ritenere che quelle risposte avessero senso vivevi comunque in un mondo in cui le persone lo facevano i tuoi genitori lo facevano molti amici lo facevano i tuoi amici preti ovviamente lo facevano te lo ricordavano e quindi le riflessioni sull'avvento sulla nascita sulla salvezza sul messaggio salvifico che caratterizzano il natale o del dio che si fa uomo sull'umanità del dio e le riflessioni invece sul dio che muore poi risorge sulla necessità che il dio risorga ti vengono in questi periodi stamattina ho sentito mio padre mio padre nella nella sua vita è rimasto molto religioso nel senso che nella sua mente crede a questa entità superiore predicata alla chiesa cattolica gli ho chiesto vai vai alla messa e se no non ce la faccio poi è lunga quella del venerdì è un po' vecchio andrò domenica per stasera sono qua e niente allora questo mi ha un po' lasciato andare il pensiero e mi ha portato a pensare ora devo dire che non lo so se riesco a dirvi quello che ho pensato perché poi uno si pensa anche i cazzi suoi si pensa la sua finitezza e poi tutto gira poi mi sono venuti in mente due due che leggo da tanto tempo non so se sapete chi siano una è una donna e uno un uomo una è spagnola e l'altro è polacco che ho letto molto in certo periodo sono andato a rivedere avevo dei ricordi vaghi perché sono letture parecchio tempo fa avevo dei ricordi vaghi del messaggio infatti mi sa che con kolakovsky ho sbagliato il libro e quindi chiedo scusa guarderò ma insomma sono un po' in ritardo ho visto che c'erano delle persone mi sono messo a parlare stavo sfogliando metafisica l'horror per vedere se il pezzo che ho in mente io sulla necessità sulla antropo ma come sapete le parole complicate italiane non riesco più a dirle antropoformizzazione mamma mia deve essere il cervello che sta andando ragazzi è un segnale di alzheimer perché una volta non avevo nessun problema a dire supercalifragilisti e spiralidoso e adesso antropoformizzazione faccio fatica a dirlo ma brutto segno speriamo che non succeda e dicevo questo tema che lui ha discusso bene evidentemente su un altro testo e la memoria mia mi ha fatto uno scherzo e adesso quando mi sentirò un po' legittimato da tacere tornerò a guardare kolakowski quello che volevo dire però è sempre ritornando al tema iniziale vedete ciò che è affascinante della religione da un lato è repellente intellettualmente dall'altro cos'è è che essa risponde un bisogno quello che chiamiamo metafisico di trovare il senso di uscire dalla nostra affinitezza eccetera eccetera e cioè risponde a delle domande che anche i più brutti di noi anche più falsi con se stessi anche più incapaci di pensare anche i più disonesti anche più vacui qualche volta si fa alcuni se lo fanno frequentemente alcuni se lo fanno più raramente io lo brutto vizio di farmelo tanto da sempre è supercalifragilistica espiralidoso l'ho detto bene antropoformizzazione non riesco a dirlo sto diventando come mia madre mia madre che non c'era tanto tempo quando eravamo ragazzini scoperta la psichiatria che mi interessava ragazzi insomma adolescenti riconobbe che non era in grado di dire psichiatria lei diceva pixiatria che per me era più difficile che dire psichiatria però è anche psicologia ma psicologia forse le venni ma pixiatria proprio infatti avete ho appena detto pixiatria come lei psichiatria non riusciva a dirlo evidentemente soffro della dello stesso problema il prof il thumbnail dov'è riccardo favoretto è un cognome a me caro ma non ho capito a che thumbnail ti riferisci forse è meglio che me lo scrivi dicevo la religione risponde a queste domande questo è il suo aspetto affascinante questo è la ragione per cui i viti le grandi cerimonie la potenza della cerimonialità cattolica ma non solo cattolica di ogni religione una delle cose che mi piace più ascoltare quando mi sento solo nell'universo e cerco la compagnia di me stesso sono dei canti e delle registrazioni buddhisti di monaci buddhisti ricevute in regalo tanto tempo fa che riescono a trasmettere almeno a me le stesse sensazioni che qualcuno ha indovinato per esempio la passione secondo matteo di bach mi mi trasmettono non è antropo 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 morfizzazione se è che ho detto quella parola purtroppo il mio cervello ha deciso che non riesce grazie si preferisco bacha palestrina e allora la delusione della religione dove sta è che tra risposta che dà alla domanda è banale oltre a essere non soddisfacente contraddittoria è banale dice non pensarci non vivere la tua finitezza il tuo su questo si suona idea gheriano il tuo essere nel tempo finito in un tempo infinito il tuo non avere un senso di per sé il tuo essere un prodotto di leggi fisico biologiche non viverlo non rifletterci non accettarlo a non trovare adesso delle risposte umane perché tutto risolto esiste una cosa superiore che risolve tutto e questa cosa che risolve tutto alla thumbnail della live su delle montagne e ma sai dove sei su youtube non ho guardato cosa ho creato quindi adesso guardo e te lo dico ma non c'è allora non capisco questa è una una live un po improbabile non vedo alcuna thumbnail vedo me stesso vedo la mia faccia quindi vabbè da qualche parte è uscita una thumbnail dove sembra ci siano delle dolomiti è perfettamente possibile ma non mi è dato vederla però capito la grande debolezza grande delusione della religione è proprio questa che ti risolve il problema al volo istantaneamente senza pensare anzi chiedendoti di non pensare perché se pensi la soluzione che ti propone rischia di non convincerti e invece se la accetti ti rilassi e va bene e quindi questo è la tensione che io provo e vivo non solo nelle feste comandate dalla religione cattolica anche in altri giorni del tempo ma anche soprattutto in queste perché in queste le persone che erano la mia famiglia una volta da cui vengo e che conosco mi ricordano questo fatto mi ritornano in mente queste riflessioni che sono che sono rilevanti mi viene da dirle ho voglia di comunicare se fossi qua sono solo quindi sono delle riflessioni sono delle sensazioni che hai voglia di comunicare perché hai voglia di compartirle il compartirle ovviamente non le elimina non elimina la tua finitezza non elimina la tua solitudine metafisica l'orrore metafisico di cui parla Ezek Kolakowski ma lo attenua illude che come diceva Bingongiari non sei la metà lo parafrasandolo non sei solo la metà di quell'uno ma sei un uno che è uno nell'essere non non diviso giurichia non so se basta accettare che la razionalità sia un strumento potremmo rispondere alla domanda del perché della vita il punto vero che la razionalità nel senso almeno che l'abbiamo usata fino adesso risponde che non c'è alcun perché nella vita c'è una causa di tipo biologico eccetera ma non non è quello perché è verissimo su questo e nonostante molti associano i due che adesso cercherò di leggere un po in compagnia dei brevi tratti e molti altri all'irrazionalità la reazione all'oscurantismo io credo che invece anche le persone che cercano di usare la propria razza il proprio cervello per capire il mondo e viverlo e vivendolo con un minimo di coerenza devono anche riconoscere proprio perché ce lo spiega il nostro cervello che esiste una dimensione istintiva animale prodotto anch'essa del nostro cervello del nostro esiste del nostro comprendere almeno parzialmente ciò che ci sta attorno che non ha una risposta razionale e non ha risposta il punto vero che non ha risposta te la vivi ciao marco no vedo che tutti cercano delle risposte no no il punto sta nel chiederselo nel vivere la domanda non nel pensare che c'è la risposta tutte le risposte quella religiosa in particolare perché quella religiosa particolarmente semplice quella cristiana ma di tutte le risposte non preoccuparti tutto questo da fatto un essere superiore divino che dura per sempre vedrai che poi c'è il premio c'è il ritorno c'è risorgerai per sempre bla 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 non importa adesso la varietà delle risposte non importa sono tutte consolatorie e rimandano tutte a una cosa magica superiore che risolve il problema la tua non della sensibilità di ciò che sei del fatto che sei il prodotto di fenomeni biologici che hanno reso cosciente nel senso che hanno prodotto un oggetto il tuo cervello te stesso l'umano con caratteristiche tali per cui hai coscienza e capisci quello che sta succedendo attorno a te o almeno parzialmente ecco tutte queste cose hanno una risposta semplice non ti preoccupare c'è c'è la soluzione è questa cosa super naturale di cui discutiamo quella cosa che si interroga tra i vari filosofi perché lui mi è sempre divertito lui vuole credere che ci sia e lo rimanda sempre più in alto sempre più lontano sempre una cosa più astratta la maria zambrano era l'opposto non ho mai avuto la fortuna di conoscerla ha conosciuto qualche territorio spagnolo che me ne ha parlato è un tipo molto strano madonna boh da quello che ho capito che viveva piuttosto reclusa e la sua risposta era non nel cercare di descriverlo questo dio risposta ma nel riconoscere accettare raccontare le sensazioni e le idee che questa colloquio con il dio alle provocavano se non avete nulla da se non avete tanto tempo zambrano ha scritto molto anche con la cosa ma zambrano non credo di più non sono uno specialista quindi non lo so leggete la claros del bosco è un libretto colto alle radure del bosco ed è un libretto molto potente va letto con un minimo di vedi edoardo del callo messo lì perché questa è una soluzione che tanti fanno una delle cose divertenti che non ha il coraggio di fare i conti con se stesso anzitutto è vivere la vita auto ingannandosi e stra pieno di gente che si auto inganna almeno una consolazione temporanea la mia impressione dice una consolazione temporanea per i deboli di mente dove deboli non vuol dire essere scemi e vuol dire proprio avere delle profonde debolezze incapacità emozionali tipicamente di accettare se stessi e il mondo no perché non è una soluzione non sono mai neanche riuscito devo dire auto ingannarmi ci ho provato ma finita la balla sempre più rara tra l'altro mi è passato allora in in un altro libro però non nel claros del bosco che nel l'ombre il divino riflettendo su appunto la relazione fra dio e uomo la zambrano a un certo punto fa un po un escluso storico la relazione con i tra uomo e dei greci la il divino nel greco dionisi ovviamente qui ruolo di inizia qualcuno mi ha chiesto cosa penso inizia ma un interessante gasper emanuele colacovski le cose più interessanti non le ha scritte sul marxismo se posso dire ma va benissimo va bene anche le cose sul marxismo non dice nulla di originale sul marxismo nel suo tentativo di essere religioso pur pensando invece dice delle cose più originali poi la gente scrive tante cose ma sono più interessanti quelle originali allora l'osservazione interessante della zambrano in un pezzo che si intitola il dios dell'amore si riferisce al dio cristiano cioè dopo aver parlato degli dei dionisio il suo punto d'arrivo greci e di altre religioni si sofferma sul cristiano che è quello che si interessa e fa un'osservazione profonda dice dio sa muerto dio è morto ve lo dico in cerco di tradurre al volume italiano il grido di inizia non è se non il grido di una coscienza cristiana è un grido che nasce dalle profondità dove si crea il crimine perché prima parlava ecco la parola che questo richiede di mettere nel contesto lei c'è questa immagine del crimine dell'assassino del dio ma non importa un grido quello di dio è morto di nice nato come tutti dagli intestini però questo nato degli intestini che raccolgono la verità ultima della condizione umana perché anche per il non cristiano questo grido della morte del dio dovrà essere accettato come un momento limite della condizione umana e questo è vero anche se non sei religioso sei cristiano la riconoscimento che l'idea di dio è morta e che non riesci nemmeno a concepirlo il riconoscimento che appunto come detto prima a questa soluzione facile perché facile dell'esistenza del sovraterreno non tiene il dover lo riconosce ti pone al limite se stai lì e la guardi e obiettivamente davanti c'è il barato a cui devi dare un senso che si creda o meno e per quello sullo scelto per il venerdì di pasqua che si creda o meno dice maria zambrano nel fatto che la passione è vera perché vede la passione non è una metafora se sei cristiano la passione è vera è proprio successo non solo la morte che sembra documentata del cristo ma la morte del dio cristo e la resurrezione del dio la morte dell'uomo e la resurrezione dice allora lei se che si creda o meno che la passione fu un accadimento che successe ciò che in essa successe anche se viene inteso come un delirio degli uomini e solo degli uomini e un delirio ciò che ciò che lì successe deve essere accettato come il più terribile la più terribile il più terribile scusate tra spagnolo oscillando tra spagnolo e italiano il più terribile degli incubi prodotto dagli intestini degli uomini e cioè la morte del dio sulla croce io su questo mi ci sento ovviamente sono limitazioni culturali se avessi un amico giapponese mi direbbe ma no dio per me non quella forno non c'era mai nato non lo vido come questo come la la massa terribile della spesa di ianacida della sumana sentragnes per il non cristiano dice sempre maria la passione deve tenere almeno la verità del sogno bella non so se a voi frega una sega ma a me bella la passione tiene la verità del sogno di questi sogni condivisi fra gli umani che per i religiosi cioè scusate per i non religiosi sono ciò che costituisce l'are le religioni tutte le religioni ed è vero una maniera buona di interpretare le religioni quella cattiva è l'oppio dei popoli quella vuole che sono dei sogni condivisi fra molti esseri umani scusate sto cercando di tradurre alcune volte scrive in una maniera un po' sofisticata maria zambrano e quindi è giustamente il caso di provare di trattare come un dovere il nostro dar conto il nostro riflettere su questi incubi di queste paure nati che nascono da luoghi della nostra anima che ignoriamo o che vogliamo cercare di ignorare perché da dove viene questa intima acquiscienza della nostra anima che sembra incontrare nella morte del Dio sulla croce una forma di appagamento di tranquillizzazione delle sue angustie perché il grido di Nice che viene venti secoli dopo il Dionisio che era il Dio della tragedia perché lo lanciò vent'anni dopo vabbè qui proprio la traduzione mi viene male scusate perché riconobbe in quella crocefissione del Dio la crocefissione di Dionisio ok ecco questa è una domanda che vale la pena farsi cioè per cosa c'è in questo rito, in queste immagini, in questo sogno, in questo incubo della passione la notte, il velo, i riti ecco se stanotte ci fosse stata a Sevilla la Semana Santa sarebbe salita della confraternita della Macarena e del, come si chiama l'altro, quello del Cristo, scusate no, il Cristo della Buona Merte e quello della Falange le due grandi processioni che escono nella notte tra il giovedì e il venerdì per commemorare la passione sono la Virgen Macarena scusate viene chiamata la madrugà adesso questo mi ricorda infatti questa è la madrugà perché si fa di notte nella notte appunto e si tira le prima mattina c'è una forma di strana competizione fra questa confraternita oh signor la pubblicità, scusate vabbè, resterà un mistero perché non è il Cristo della Buona Merte quale altra confraternita sale per la madrugà assieme alla Virgen Macarena che ha la statua del Cristo questo per dire che c'è perché c'è della gente divertente che qualcuno mi chiede qual è il mio tenore preferito che cazzo ne so io, mio papà, faceva il tenore fa ancora un pochino il tenore col poco che gli resta in voce e la prima cosa quasi quasi blocco i commenti perché un po' mi distraggono quindi vediamo se trovo come bloccarli perché sia chiaro di tutte le cose che faccio per me stesso e quindi se qualcuno si diverte a molestarmi io blocco i commenti così non mi vengo più chissà se ci sono riuscito è proprio l'incapacità di ascoltare forse di pensare di fermarsi che produce la solitudine in cui si vive in questa epoca mi è cambiata completamente la riflessione se non so come diavolo si blocchino direttamente non ho tempo per pensarci non ho tempo per sicuro mi è andata non ho tempo per stare visto alla fine no grazie che non c'è nulla da fare da moderatore in questo momento questo momento per parte mia c'era un tentativo di fare una riflessione ma se non riusciamo ad ascoltarci non deve farle la riflessione buonanotte buonanotte ciao